Ma poi, dico io, mettilo prima a Lukaku, no? Perché c'ha spudorato? Io certe volte non lo capisco proprio. Poi tanto per cambiare, Milan, gli hanno sempre rigore, matematico. Devono far vincere il campionato. Sì, ma così è spudorato. Buongiorno. Perché c'è una faccia come il cuore. Buongiorno, prego. E un caffè, grazie. Subito. Oh, tre su tre, eh? Cioè, tre partite, tre rigori gli hanno dato. E dai, su, il caffè normale? Oggi, Rum. Eh? Lo ha detto, scusi? Oggi, Rum. Lo voglio corretto, con Rum. Oggi lo voglio rosare. Scusi. Mi sembrava un'altra cosa. Ma poi, dimmi pure tu, sei lì. Ma saluto. Cioè, dai, che modo di marcare quello? E dai, su. Ma hai visto che si mette dietro al giocatore per marcare? Prego. Ma anche i cucini fanno queste cose. Le hao. Mi ha detto. Come? Le hao detto corretto con Rum, ma vabbè. Ah, vero. Senta, hai visto che gli piace bere? Dopo il caffè? Vuole pure una birretta? Magari alla spina, eh? Guardi, alla spina, solo la Heineken, la Guinness, la Bex. No, no, grazie. Ci ha avuto paura di mischiare? Ci ha avuto paura, sì. No, no, la ringrazio, non voglio esagerare. Che già prima mi hanno dato un rosso che manco c'era messo in conto di Berlo. La carne è debole. Arrivederci, grazie. Ma questo è un dolci. Ma me stai da coglionare. Sarà? Guarda che il rosso c'era è come. Semmai non c'era il rigore. Oh, a coso. No, 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 no.